McDonald's e giallo zafferano presentano il gustoso, con delizioso petto di pollo 100% italiano, cavolo cappuccio rosso italiano e salsa al pecorino romano di OP e pepe. Prova il gustoso! McDonald's e giallo zafferano presentano l'affumicato, con delizioso petto di pollo 100% italiano. Scamorza affumicata con latte italiano e salsa ai peperoni grigliati. Prova l'affumicato, anche in versione McWrap. Milano Design Week Centinaia di eventi, migliaia di persone, le più grandi novità del design. Un solo problema. Impossibile trovare un posto libero per mangiare. La soluzione L'aff di McDonald's Ordinando dall'aff è stato possibile saltare le cose e ricevere uno speciale packaging, studiato appositamente per i paletti della città. Per creare un tavolo, dove un tavolo non c'è. McDonald's presenta Tableback Progettato in limited edition per contenere fino a due minuti. Ideato per trasformarsi in un supporto stabile. Dedicato a chi ha fame anche di design. 100% ricicabile 100% social 100% feel good Un'idea che ha portato nei luoghi simbolo della Design Week l'unico spazio che serve davvero. Quello da condividere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.